Salve Ascione e salutiamo Gina Decazzan, salutiamo la nostra greenettina Green Apple e salutiamo un po' tutte le persone che si collegano, che si collegheranno e cerchiamo di capire quindi in questo caso come utilizzare, diciamo, come utilizzare giocare con l'ego di un uomo o anche di una donna, perché anche le donne hanno l'ego per farlo innamorare. Salutiamo Emanuela Moonriver, salutiamo la Nespola, salutiamo Vindreams e salutiamo, chi salutiamo ancora? Gina Decazzan, Fiammella, Patrizia Perotti, la Carampagnocca, salutiamo il Senz'Anima, salutiamo, salutiamo, ricordo comunque a tutti ricordo comunque a tutti di iscrivervi al canale, attivare la campanella, salutiamo YPS, di iscrivervi al canale, attivare, salutiamo anche Yudmila, salutiamo anche Serena, allora cerchiamo quindi di capire come agire per, tra virgolette, giocare con l'ego di una persona, in questo caso di un uomo, per farlo innamorare. Allora, dobbiamo tenere presente un po' di cose. Allora, intanto ci sono delle differenze ontologiche, se vogliamo, tra uomo e donna, questo è un qualcosa di naturale, ci sono differenze ontologiche tra uomo e donna, anche se oggi cercano, salutiamo anche Patrizia, anche se oggi cercano di diminuire queste differenze ontologiche, no? Perché uno dei motivi che creano spesso, diciamo, incomprensioni è proprio che oggi non c'è più questa differenziazione tra uomo e donna e quindi si cerca di uniformare il tutto. Uniformando viene meno l'attrazione fondamentalmente, viene meno l'attrazione perché quando c'è similitudine, similia similibus, però diciamo da un certo punto di vista l'attrazione si genera, non si sente bene ma si sente. Aspettate un attimo. Allora, ditemi se adesso si sente, adesso dovrebbe sentirsi meglio, ditemi se si sente meglio, Grinettina, dimmi se si sente meglio. Ditemi se si sente meglio adesso, Befane, non concetto a dire che è gracchia, è la ricca racchia che è gracchia. Ditemi se si sente bene adesso, è la ricca racchia che è gracchia. Cominciano a sparare a cazzata a scopo ritardato, è la ricca racchia che è gracchia. La ricca racchia che è gracchia. Allora, quindi questo è un punto fondamentale, gli uomini per loro natura dovrebbero sviluppare il maschile, le donne per loro natura dovrebbero sviluppare il femminile. Salutiamo anche Tatiana e Alice. Le donne dovrebbero, salutiamo anche Pippoli. Allora, la tendenza dell'uomo dovrebbe essere quella di essere più pragmatico, maschile, marziale. Una donna dovrebbe essere più creativa, femminile. D'altra parte, in tutte le tradizioni si differenzia il maschile dal femminile. Anche nelle tradizioni esoteriche, il lato sinistro è quello femminile, il lato destro è quello maschile, il lato sinistro, quello femminile, quello del desiderio, quello maschile è quello della volontà. Ora, per dire questo per dire che cosa? Per dire che c'è un egocentrismo. Poi sapete cosa c'è di peggio della ricca racchia? Che cos'è? Cosa c'è di peggio della ricca racchia che è gracchia? È la racchia povera, che può anche non grecchiare o grecchiare, ma peggio della ricca racchia c'è la racchia povera. Quindi questo è un concetto molto importante. Il maschile ha la volontà e l'orgoglio. Il femminile, il femminile cos'ha? Il femminile ha il desiderio e la creatività. E il canale sinistro, energeticamente il canale femminile, c'è una polarità diversa ragazzi. Anche a livello esoterico c'è una polarità diversa tra maschile e femminile. Oggi ci fanno andare contro natura secondo me, cioè vogliono uniformare il maschile e il femminile. Ci sono certi negozi che non si capisce se vendono cose da uomo o cose da donna. Tanto va bene per tutto. Tanto è tutto uguale. Ma non è così. Le donne devono essere differenziate, devono essere femminili. C'era quella canzone, no? Vi ricordate quella canzone di, come si chiama? Vecchioni, no? Voglio una donna con la gonna. Donna, donna, donna con la gonna. Però per dire che differenzia il maschile dal femminile. Questo è importante. Quindi il maschio tendenzialmente, e questo è un punto fondamentale comunque, perché uniformare maschile e femminile è veramente un'aberrazione allucinante. La donna deve manifestare la femminilità, l'uomo deve manifestare la mascolinità. Il canale sinistro, creativo, leggiadro, desiderio, femminile. Canale destro, maschile. Orgoglio e volontà. Orgoglio e volontà. Salutiamo Pink, salutiamo Chiara e salutiamo Tiziana. Oggi ci sono queste cose aberranti in cui gli uomini vanno in giro che ne so, con gli anfibi per dire, no? Questo è fondamentale. Questo è la cosa peggiore che possiamo fare. E beh, i gatti, io tiro i gatti. Allora, quindi gli uomini hanno l'orgoglio. Quindi queste differenze ontologiche tra uomo e donna sono fondamentali. Queste differenze ontologiche tra uomo e donna sono fondamentali. Esatto, perché questi vestiti, questi vestiti, diciamo, abiti informi che non si capisce se sono da uomo o da donna, non stanno bene né all'uomo né alla donna, perché l'uomo lo fanno un po' culattone e la donna la fanno un po' mascolina. Quindi questo tipo qua rende l'uomo culattone e la donna mascolina. Comunque, detto questo, dobbiamo imparare a gestire al meglio. Quindi l'uomo ha l'orgoglio e l'orgoglio lo puoi farire fondamentalmente, no? L'orgoglio e l'egocentrismo. Anche la donna è egocentrica, ma è egocentrica in modo diverso. La donna è egocentrica. Eh sì, da Prada c'è il manichino uomo con le tettine. Ma io non capisco, gli uomini che si mettono la gonna e le donne che si mettono i pantaloni, per dire, no? Fanno il contrario. La donna va con i pantaloni e l'uomo va con la gonna. Per carità, la donna si mette gli anfibi e l'uomo e l'uomo si mette e l'uomo si mette le scarpe, le scarpe, diciamo, come se possiamo dire, con i tacchi. Poi ognuno fa che cazzo? Oh, salutiamo la nostra Sissi. Però si va a introvertire, diciamo, a invertire, si inverte la polarità. Quando si dice quello è invertito, non è nulla contro, però è un'inversione di polarità fondamentalmente. È un'inversione di polarità. Quindi, uno dei motivi, diciamo, per cui spesso si, diciamo, la donna non riesce a sedurre l'uomo. È perché pensa che sia uguale a lui. È uno dei motivi per cui l'uomo non riesce a sedurre la donna. È perché pensa che sia uguale a lui. Invece dovete calarvi nell'altro sesso. Prima che abbiano, diciamo, prima che abbiano cercato di uniformarci, di renderci snaturati, di farci andare contro natura, perché questa è la tendenza, diciamo, di farci andare contro natura. Questa è la tendenza di farci andare contro natura, perché la natura, anche la natura esoterica, prevede, diciamo, un qualcosa di positivo. Il fatto che in passato, cioè non è che il passato era peggio, ecco, un altro errore che si fa è che si pensa che, tra virgolette, ci sia sempre un'evoluzione culturale. Ma questo non è vero. Ci può essere un'involuzione culturale. E oggi credo che noi siamo in un periodo di involuzione culturale. Non stiamo migliorando, stiamo peggiorando. Ma non c'entra che di altri tempi, non c'entra un cazzo. Il problema che i tempi, alcuni tempi passati, sono meglio di quelli di oggi. E questo è un altro errore che fanno le sciampiste e i catramisti. Pensare che ci debba essere per forza, ci debba essere per forza un'evoluzione culturale. Ci debba essere per forza un'evoluzione culturale. Non c'è un'evoluzione. Ci sono periodi della storia in cui c'è un'involuzione. Magari poi a lungo termine ci può essere un'evoluzione. Ma adesso siamo in un periodo involutivo, involutivo, di involuzione. Poi ognuno può fare che cazzo vuole. Potete anche andarvi... Ma perché? Pensate alla cultura greca. Noi siamo lontani anni luce dalla cultura greca. Nonostante fosse di miliardi di anni fa abbiamo migliorato la tecnologia. Ma la tecnologia non è che perché avete l'iPhone siete più intelligenti o avete una cultura maggiore. Anzi, siete ancora più ignoranti. Perché i ragazzi di oggi, certo, hanno accesso a tante notizie ma sono facilmente manipolabili. Perché qualunque cosa leggono su Google, quella è la verità. Una volta, lo diceva la televisione, oggi qualcosa leggono su Google. Eh, ma c'è scritto su Google. Ma su Google c'è scritto di tutto. Comunque, fate come cazzo volete. Questo non è il tema. E pensate alla cultura greca, ma pensate a Platone, pensate anche ai presocratici, pensate anche ai presocratici, pensate anche alla cultura dell'epoca. Ma comunque, detto questo, non ce ne può fottere di meno. La generazione di degenerazione, anch'io credo che si è degenerato. Comunque, ehm, allora, comunque andiamo avanti. Andiamo avanti, cerchiamo di capire come vanno le cose. Allora, quindi, se tu vuoi seduere un uomo, un uomo che sia un maschio, se vuoi seduere una checca è un altro discorso. Ma se vuoi seduere un maschio, un maschio alfa, quello che devi fare è giocare un po' col suo ego. Perché il maschio ha l'ego. tempo. Tenete presente anche che nella filogenesi evolutiva dell'essere umano, nella filogenesi evolutiva dell'essere umano, è vero comunque senza anima, sono degenerati i genitori. Brava, brava, perché una volta le nostre mamme, i nostri papà avevano comunque al centro la famiglia, al centro i figli. Adesso brava e senza anima, io credo che hai fatto centro. Adesso c'è l'egocentrismo, perché i cinquantenni di oggi mettono al mondo i figli per egoismo e poi se ne sbattono i coglioni. E questo è il concetto di fondo. Invece ai nostri tempi, nella maggior parte dei casi, più mettevano al mondo i figli, ma se ne occupavano. I cinquantenni di oggi mettono al mondo i figli per egoismo fondamentalmente, per moda, per tendenze, poi se ne sbattono altamente i coglioni. Li lasciano lì davanti alla Playstation in modo tale che non rompano il cazzo. E questo è il concetto di fondo. Comunque, quindi al di là di questo che non è, che è un po' fuori tema. Una donna, se vuole sedurre un uomo, una donna, salutiamo Sissi, una donna, se vuole sedurre un uomo, quello che deve fare è giocare col suo ego. Cioè, noi dobbiamo giocare con le cose che sono importanti per un uomo. L'ego è la mascolinità. Un uomo che vuole sedurre una donna deve giocare con l'ego femminile. Una donna, ad esempio, terrà la femminilità. Un uomo che, oggi ho fatto anche una live sulla seduzione maschile verso le donne, che l'ha seguita anche Pippoli. È ovvio che se io da maschio ci provo con una donna, ma poi mi blocco io, senza aspettare che lei mi dica, no, ma cosa stai facendo? Mi blocco, mi tiro indietro, beh, le creerò un'interruzione di schema. Perché una donna, tenete presente che l'energia femminile, mano sinistra, è l'energia del desiderio. Quindi qual è il modo più forte per ferire l'orgoglio femminile? Far sentire che tu non desideri questa donna. Perché una donna, quando non si sente desiderata, va in tilt, va in palla. Perché l'essenza femminile è l'essenza del desiderio. Desiderio, desideris, mancanza di stelle. Quindi, ad esempio, nelle strategie di seduzione dell'uomo verso la donna, c'è, ci provi, mi tiro indietro io. E una donna, nel momento in cui tu ti tiri indietro, si sente squalificata come femmina, non si sente desiderata. e questo la colpisce profondamente. Va a colpire profondamente il suo ego. Perché qual è il gioco che vorrebbe giocare una donna? Che un uomo ci prova e lei dice no, ma cosa fai? No, vorrebbe dargliela subito. Però fa questo gioco di farla difficile, no? Di resistere. E infatti una struttura, un modo per seguire, un modo per, diciamo, come dire, ferire l'orgoglio femminile, è quello di provarci di tirarti indietro. È una strategia di seduzione. Salutiamo anche Stefania. Lo stesso discorso, lo stesso discorso può essere utilizzato dalla donna verso il maschio, ma il maschio ha esigenze diverse. Il maschio ha esigenze di orgoglio, ha l'esigenza dell'orgoglio maschile. E l'orgoglio maschile qual è? Beh, è emergere come uomo. Essere un uomo in grado di, diciamo, piacere sicuramente alle donne, ma essere un uomo che sa quello che vuole, che sa quello che fa. Ecco, quello che gli uomini non tollerano da un punto di vista. Oh, salutiamo la nostra Betty Cottage. All'altro ricordo che se volete farvi fare un ritratto intelligente, andate a Venezia, a Campo Manin, trovate Betty Cottage e vi fate fare il ritratto intelligente. Quindi quando una donna, diciamo, nei confronti di un uomo inizia a giocare con il suo ego, cioè non lo considera, non so, non dico virile, ma non lo considera un uomo realizzato, lo considera un minus habilis. Iniziate a considerare un uomo, da un certo punto di vista, un minus habilis e voi riuscirete subito a giocare, a ferirlo con il suo ego, a ferirlo con il suo ego, a ferire il suo orgoglio, il suo orgoglio di maschio, che consiste sia nella virilità, ma ovviamente per testare la virilità dovete andarci a letto, qualcosa che non è sbagliato. Infatti, una strategia molto utile, care donne, è quando gliel'ha mollata ad un uomo, non iniziate a tempestarlo di messaggi, perché uno dei più gravi errori che fanno le donne non appena vanno a letto con un uomo, dicono, ma allora quando è la prossima volta che ci vediamo? Uh, come mi hai fatto godere tu? Non mi ha fatto godere nessuno. Uh, come mi ha fatto godere tu? Non mi ha fatto godere nessuno. Ma quando è che ci rivediamo? Ci rivediamo già domani o ci rivediamo la settimana prossima? Sai, perché io desidero tanto rivederti, io desidero tanto rivederti. Quando è che ci vediamo? Ecco, una donna che si rapporti in questo modo, perché ricordate che l'energia femminile è quella del desiderio fondamentalmente, praticamente viene assolutamente squalificata dal maschio. Se autosqualifica il maschio, il maschio non la vuole più assolutamente e quindi l'ammalgasciona, l'ammalgasciona non ha più possibilità. Invece, care donne, quando gliela smolate e dovrete smolargliela prima o poi, poi c'era anche quel detto Dalla! Dalla! Non è un cantante, è un suggerimento, però dopo non devi farti vedere che sei bisognosa. Anzi, quello che devi fare è giocare un po' col suo ego. Giocare col suo ego vuol dire che non ti dimostri così vogliosa di rivederlo. Anzi, eventualmente dovrei dire, ma dai, forse ci rivedi a chissà, se capiterà l'occasione ci rivedremo, se capiterà l'occasione ci rivedremo, se l'occasione non capiterà non ci rivedremo. Salutiamo Patrizia! Se non ricapiterà l'occasione non ci rivedremo. Lasciamo al destino, lasciamo al destino il compito se ci rincontreremo meno. Ecco, una donna così che gioca con l'ego di un uomo. Perché ricordiamoci che l'uomo è la pragmaticità, la volontà. Cioè, tenete presente questa cosa che è una cosa molto sottile. È l'uomo che vorrebbe decidere quando rivedere una donna. Perché l'uomo è la volontà e l'azione, la decisione. Tenete presente che queste differenze tra maschile e femminile esistono. Chi pensa che non esistono è un coglione. Perché tutte le tradizioni esoteriche dicono esattamente questo. Tutte le tradizioni esoteriche lo dicono. Il lato sinistro è il lato femminile trasgressivo e, diciamo, è del desiderio. Il lato destro è il lato maschile. Il lato solare è il lato della volontà, è il lato dell'orgoglio e della virilità. Sono tutte le tradizioni dal buddismo tantrico tibetano, allo yoga, all'induismo. Tutte le tradizioni, da questo punto di vista, sono in sincronia. Ci sono tante differenze nelle varie tradizioni. Ma parlo di tradizioni evolute. Perché, come dire, le tradizioni evolute sono evolute. Quindi, anche se sono di 2500 anni fa. E quindi tutte queste, tutte queste, diciamo, tutte queste tradizioni differenziano. Lato sinistro e lato destro. Lato femminile dal maschile. Le due polarità. E ricordo, quindi, lato sinistro lunare. Lato sinistro freddo. Lato destro caldo. Lato sinistro trasgressivo. Lato sinistro creativo. Lato destro, volontà, azione, forza. Lato destro forza. È la forza del lato destro. L'orgoglio. L'orgoglio della virilità è quella del lato destro. Quindi, cari inferiori, come diceva Fantozzi, come dicevano a Fantozzi, cari inferiori, come diceva il mega direttore generale, cari inferiori, dovete tenere presente che queste cose sono intrinseche nell'animo umano. Ed essendo intrinseche nell'animo umano, voi non potete alterarle. Voi non potete alterarle. Ci deve essere. Noi sviluppiamo la nostra mascolinità e la nostra femminità anche, ad esempio, cioè uno dice, vabbè, ma l'abbigliamento, come dire, l'abbigliamento non fa la femminità e la mascolinità. Certo che lo fa. È una delle componenti. Anche, anche, diciamo, anche c'è un video interessante che gira su TikTok, eccetera, no? Anche nel linguaggio non verbale. C'è il maschio, un po' culattone, si vede che fa pugilato al sacco e tira i pugnetti così, e tira, come tirerebbe una donna, no? Tira i pugnetti al sacco, così, pan, pan, i calcetti. Arriva una donna, tutta lì, bum, 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 inizia a fare un lavoro al sacco potente fondamentalmente, no? Quindi, per dire, no? Oggi vogliono uniformare il maschio che colpisce così. Ringraziamo Stefania, ringraziamo Stefania. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale, e quindi questo è un punto fondamentale. Oggi però volevo fare una cosa, volevo fare una cosa oggi, che di solito non la faccio, ma voglio farla. Voglio fare un giro di campana per la mia mamma, perché oggi è l'anniversario di tre anni che è mancata mia mamma tre anni fa, quindi voglio fare un giro di campana per, anche se l'ho già fatto personalmente, diciamo, però voglio farlo anche, diciamo, pubblicamente per mandare energia alla mia mamma, che oggi fa l'anniversario di tre anni che è mancata, nel 2021. Quindi voglio fare un giro di campana. Bene, questo volevo farlo, e quindi, comunque, tornando, tornando, diciamo, al discorso, tornando al discorso precedente, tornando al discorso precedente, quello che volevo, quello che volevo un anno fa ieri. Allora facciamo anche il giro di campana per la mamma della Nespola. Un anno fa ieri, comunque, siamo sempre, anche per la mamma della Nespola e per tutte le mamme che siano ancora presenti in questo corpo, che possano vivere bene, felice, per quelle che non ci sono più, che possano comunque, in qualche modo, diciamo, in qualche modo stare bene. Quindi un giro di campana per tutte le mamme e anche per tutti i papà, comunque. Grazie, Dean. Comunque, tornando al discorso di prima, tornando al discorso di prima, quindi noi abbiamo queste tendenze che dovremmo, che dovremmo manifestare, dovremmo sviluppare. Grazie, grazie. Ma, quindi, questo è un punto fondamentale. Le donne, diciamo, anche per loro natura danno più valore alla creatività. E questo, secondo me, ad esempio, anche nella società viene valorizzata poco, spesso, alla creatività femminile. Invece le donne proprio hanno, diciamo, danno più valore alla creatività, danno più valore alla comunicazione. E da un certo punto di vista sono anche più intuitive. Perché, dobbiamo dirlo, le donne sono più intuitive. Il lato femminile è più intuitivo. Se vogliamo, tendenzialmente anche il lato femminile è anche più, come possiamo dire, il lato femminile, oltre a essere più istintivo, è anche, come possiamo dire, più creativo e più intuitivo. Ecco, intuitivo, istintivo e creativo. Questo fa parte del lato sinistro. Il maschio, invece, ha una tendenza diversa. Il maschio e il maschile ha una volontà più forte, tendenzialmente ha una determinazione maggiore, probabilmente, ha una pragmaticità maggiore. Questo fa proprio parte dell'energia maschile. Ovviamente è importante, quindi, nella seduzione, nella seduzione è importante, nella seduzione è importante imparare, diciamo, nella seduzione è importante imparare a gestire, diciamo, quindi questo. Imparare a gestire, grazie a tutti comunque, nella seduzione è importante imparare per una donna, imparare a gestire il lato maschile. E come può, nella seduzione, grazie Fiammella, grazie, grazie, ma le mamme sono veramente speciali sempre, insomma, soprattutto io penso alle mamme di una volta, anche le mamme di oggi, non tutte, però. Questo atteggiamento, diciamo, una donna, invece di gratificare un uomo da un punto di vista sessuale e poi manifestare la sua sensibilità, dovrebbe, se vuole seduzione un uomo, calibrarsi di più sulle esigenze dell'uomo. Allora, ad esempio, quello che dicevo prima, una donna, quando va a letto con un uomo, dopo non può stare a dire, ma allora quando ci rivediamo, dai, rivediamo, ci facciamo qua là, perché è l'uomo che deve decidere questo? È l'uomo che deve decidere questo, è l'uomo che deve decidere questo, purtroppo o per fortuna è l'uomo. E una donna dovrebbe recitare la parte di quella che mette delle resistenze, ma vediamo, facciamo, questo è il gioco delle parti, è il gioco della seduzione. Quando si vuole stravolgere il modo di fare, non funziona. Cioè non funziona, perché è come dire, è come andare contro natura. Per qualche motivo strano siamo fatti in un certo modo, dentro di noi abbiamo dei trigger. Anche la mia mamma è mancata nel 2021. Eh sì, purtroppo la mia è prevalentemente a causa del covid, ma vabbè, comunque questo è un altro film, ma ringraziamo anche la nostra Sissi. Comunque le persone, diciamo, da questo punto di vista dovrebbero, le persone da questo punto di vista dovrebbero imparare, diciamo, tornando ai genitori a stare collegati con i genitori. Perché tenete presente che, salutiamo anche Rosa, che i genitori sono le uniche cose che non possiamo cambiare. Eh sì, sì, i genitori sono l'unica cosa che noi non possiamo cambiare. Perché i genitori sono coloro che ci hanno generato. Grazie a tutti, ma tutti, quindi l'energia mandiamo da tutte le mamme nei vivi, vive e diversamente vive, perché io credo che una continuità ci sia sempre. E questo è importante. Quindi noi dobbiamo imparare, da questo punto di vista, a capire che i genitori dovrebbero essere, indipendentemente da tutto, dovrebbero essere amati. Anche se molte persone hanno conflitti con i genitori, però io ripeto sempre, i genitori vanno amati semplicemente perché non ti hanno abortito, ad esempio. Poi, ecco, un errore che fanno i figli e non tutti siamo genitori, ma tutti siamo figli, è pensare che i nostri genitori devono essere Superman o Wonder Woman. Sono ed erano persone con i loro pregi, i loro difetti, la loro affettività. Però sicuramente, pensate, una madre che comunque ti ha portato, ha portato avanti una gravidanza per nove mesi, non ti ha abortito, ti ha tenuto. Magari anche in condizioni in cui forse non aveva tutta la necessità, magari forse non era neanche innamorata, magari era anche da sola, magari era anche, diciamo, eppure se tu sei qua è perché tua mamma ti ha portato in grembo per nove mesi, ti ha fatto nascere, non ti ha buttato nel sacchetto dell'immondizia, non ti ha buttato nel sacchetto dell'immondizia appena nato e comunque alla fine ti ha tenuto, ti ha fatto crescere, perché comunque ti ha fatto crescere, in qualche modo ti ha dato a modo suo qualcuno meglio, qualcuno peggio e ti ha dato affetto. E quindi i genitori non possono essere sostituiti, quindi non possono essere sostituiti. Paradossalmente, adesso non dico che i figli possono essere sostituiti, però i figli uno può averne dieci, perché in realtà ogni figlio è unico a sé, però per dire che il genitore è colui che ti ha generato. E tra l'altro c'è un'altra cosa interessante, che comunque i genitori continuano a vivere dentro di noi, proprio fisicamente, perché se ci pensiamo bene, ognuno di noi abbiamo un patrimonio genetico che è metà di nostra madre e metà di nostro padre, cioè ci hanno dato il loro patrimonio genetico e quindi indissolubilmente vivranno dentro di noi, perché noi abbiamo il loro patrimonio genetico e noi abbiamo il loro patrimonio genetico e quindi di nostro non c'è niente, da un punto di vista del corpo di nostro non c'è niente. Abbiamo preso uno spermatozoo e un ovulo che erano cellule esterne a noi, che si sono unite e ci hanno generato, quindi come possiamo dire, è un punto fondamentale, no? Quindi d'altra parte continueranno a vivere sempre dentro di noi. Quindi comunque ovviamente qui tornando al discorso più divertente diciamo della seduzione, tornando uovo a un altro genoma nel mitocondo. Sì, sì, è vero, è vero, hai ragione, hai ragione, brava, brava, lo spermatozoo diciamo probabilmente determina la sessualità, è quello che determina il genoma X o il genoma Y, però è vero, brava, brava fami nun, siamo più mamma che papà, è vero, è vero, questo dobbiamo dirlo è vero. Quindi comunque, tornando al discorso di prima, quindi una donna deve imparare a giocare col suo ego e facendo questo discorso serio prima, adesso il discorso della seduzione deve essere un gioco, ma è anche importante capire alla luce di tutto questo che il discorso della seduzione deve essere un gioco, quindi non state a prendervela se non riuscite a seduare qualcuno, se non riuscite a conquistare qualcuno, questo deve essere principalmente un gioco, deve essere principalmente un qualcosa che deve dare allegria, cioè nella vita, nell'impermanenza della vita, nella transitorietà della vita, la seduzione deve essere un momento gioioso, deve essere un momento gioioso, quindi giocate con l'ego di un uomo e un uomo dovrebbe giocare con la vanità della donna, quindi giocare con, una donna deve giocare con l'ego e un uomo un uomo deve giocare con la vanità. Pippoli, la prossima volta che vedi Sissi, provaci e poi ti tiri indietro, ci provi e ti tiri indietro, vedrai che sarà Sissi che liberà la voglia di dartela, nel momento in cui ti tiri indietro e lei non si sentirà femmina apprezzata. Quindi questo è un po' il concetto fondamentale, quindi l'atteggiamento, è una donna come fa a giocare con l'uomo? In questo modo deve attendere che l'uomo la cerchi e quando la cerca, e quando la cerca fondamentalmente, tu dovrai tirarti un po' indietro, devi recitare questa parte, il recitare questa parte è interessante, tirarti indietro, andare avanti, giocare, flirtare. Il gioco della seduzione è fatto di flirt e dobbiamo imparare a fare charming, dobbiamo imparare diciamo a mettere in atto tutte queste strategie, perché il gioco della seduzione secondo me tra l'altro è anche un gioco antistress, perché è un modo per divertirsi fondamentalmente, ma anche il gioco della seduzione all'interno di una coppia, perché il gioco della seduzione non è soltanto tra due sconosciuti, il gioco della seduzione può essere anche all'interno di una coppia, in cui magari un uomo può fare più il dominante, una donna può fare più la sottomessa, poi magari può uscire fuori da quel gioco, quindi se volete far durare una relazione di coppia nel tempo fondamentalmente, è ovvio che se lo fate sempre allo stesso modo, sempre allo stesso modo, sempre come al solito, lui manco si toglie i pantaloni del pigiama, si abbassa un po' il pantalone del pigiama e li ho mette dentro, diciamo che questo non è, deve essere un po' un gioco, può essere un gioco tra due persone che non si conoscono nell'inizio del gioco, ma anche, e anche una donna dovrebbe secondo me, come un uomo dovrebbe mantenere la sua mascolinità all'interno del rapporto, una donna dovrebbe spingere molto sulla femminità, la femminità e la mascolinità sono la diversità. Beh, se dura mesi sto gioco, beh, se dura mesi questo gioco, se è un uomo, e beh, sì, ecco, il gioco secondo me può durare il tempo che vuole, ma deve essere un gioco univoco quando si crea una coppia, cioè non è che se si crea una coppia, io credo che se due persone si amano, si vogliono bene, è giusto che, ah, ringrazio, ho visto un'altra donazione, non ho visto chi l'ha fatta, e ringrazio chi l'ha fatta, sì, sì, l'ho vista, e probabilmente ce n'è stata un'altra prima, ah, Patrizia Perotti, grazie Patrizia, la carampagnocca, non avevo visto una cosa di Patrizia, grazie Patrizia. Ecco, quindi quello che sto per dire, quindi comunque, è questo fondamentalmente, noi dovremmo veramente, io credo, imparare a, come possiamo dire, a mantenere alto il desiderio, quindi una donna dovrebbe studiare il desiderio, esatto, se la donna si presenta col pigiama di Peppa Pig, magari quel pigiama che ti fa venire pure l'orticaria, per fare un esempio, no, che ti fa venire pure l'orticaria, e come possiamo dire, come possiamo dire, fanno venire l'orticaria, perché sono magari di lana, ti pungono pure, beh, questo non funziona fondamentalmente, no, dobbiamo imparare a giocare il gioco sottile, ma questo anche semplicemente come antistress, anche semplicemente come antistress, perché il gioco della seduzione, sia all'interno della coppia, sia tra due persone che si incontrano per la prima volta fondamentalmente, deve essere un gioco, deve essere un gioco che dà emozione, la donna deve stimolare il desiderio, l'uomo deve manifestare forze e virilità, questo è il concetto fondamentale, perché la donna ha il compito di stimolare il desiderio e seduce stimolando il desiderio, seduce con la fantasia, seduce, diciamo, amplificando le fantasie, salutiamo Don Matteo, e altrimenti non c'è nulla, purtroppo in molte coppie si creano, si perde questo feeling, e il feeling si perde per quale motivo? Perché subentra l'abitudine, e l'abitudine fondamentalmente è la tua... Ok, questo è ciò che ho trovato sul web per il... Questo continua a parlare, Siri, è l'abitudine che è la tomba dell'amore fondamentalmente, non è neanche, uno dice il matrimonio, perché il matrimonio comunque porta all'abitudine fondamentalmente, o la relazione stabile porta all'abitudine, ma è l'abitudine che distrugge totalmente le relazioni, è l'abitudine che rovina totalmente le relazioni, e allora a quel punto lì quando subentra l'abitudine non importa più che una donna possa essere bella o possa essere brutta, perché quando subentra l'abitudine tu la vedi praticamente, tu la vedi praticamente come se fosse un parente, e questo è il concetto fondamentale, perché è con i parenti che tu hai l'abitudine, no? E quando la vedi un uomo inizia a vedere la donna come una sorella, e un uomo inizia a vedere la donna come un fratello, e allora subentra il tabù dell'incesto di Freudiana memoria, per cui tu non vai a letto con tua sorella e tu non vai a letto con tuo fratello. Non importa che tu sei bella, diciamo, o sei brutta, questo non porta a nessun risultato, non importa essere belle o essere brutte, non porta assolutamente a nessun risultato, quindi questi sono i motivi più frequenti per cui non riusciamo a sedurre, quindi invece imparare a giocare è un punto fondamentale, imparare il gioco dello charming, imparare il gioco della seduzione, imparare a dare stimoli, questo è veramente quello che fa la differenza. E questo è quello che fa la differenza, e fa veramente, e fa sì veramente che le persone possano coinvolgersi e anche rimanere coinvolte nel tempo. Ci deve essere sempre un po' di mistero fondamentalmente per portare avanti una relazione, non ci deve essere mai, ci deve essere sempre il dubbio. Il dubbio l'uomo lo patisce da matti, ma proprio perché lo patisce lo coinvolge, come la donna patisce il fatto di non sentirsi desiderata, lo patisce e per questo lo coinvolge. Quindi se due persone sanno giocare e sanno giocare nel modo giusto, riescono a portare avanti una relazione che possa, che può funzionare nel tempo. Bene, vi ricordo che alle 21, alle 21 ci sarà la premiere, alle 21 ci sarà la premiere.